Allora ragazzi, oggi parliamo di Antalighieri. Matteo? Prof, ma tipo si può viaggiare nel tempo? Uno, non c'entra con la lezione. Due, è ovvio che non si può viaggiare nel tempo. Come vedete, Dante Antalighieri è nato nel 1265 ed è morto nel 1321. Eh ragazzi, venite a vedere, c'è un astronave! Tu sei poco! Se ne devi scrivere nel astronave, tu l'hai visto! Guardatevi, fatemi vedere! Grande Giove! Ma che cos'è? Antenati nel 2014, noi veniamo da lontano 2114 per dire che la nostra vita fa schifo! Ma perché? Guardate il nostro futuro, il cibo è finito e è solo per colpa vostra! Dovete aiutarci o l'umanità rischia di sparire! Sì, ma il futuro è roba vostra! E la colpa è solo vostra! Ah sì, vediamo chi ha ragione, se voi o noi! Sì, vediamo chi! Abbiamo capito, stiamo sbagliando noi! Ma c'è ancora tempo per rimediare? Siete ancora in tempo, ma dovete sbrigarvi! Ma è più sprechi! Il cibo è vita! Mi raccomando! Guarda, due alberi di mele, ne prendiamo una! Ne mangiate di meglio! Sì, anch'io! Dai, consoliamoci con un po' di latte! Ho bevuto di meglio! Sì, anche io! Guardate, ci sono delle mele, facciamo merenda! Sì, sì, dai, mangiamole tutte! E adesso è il latte! Sa troppo di latte! Allora, gente, sa troppo di mucca! Ehi, guardate che begli alberi! C'è anche una mucca! Sì, guardate che togli alberi! Sì, è un po' di mucca! Sì, è un po' di mucca! Sì, è un po' di mucca! ungere. Ehi, stai ferma. Perché non ci vuoi più dare il latte? Basta, siamo stufi. Ciò che produciamo viene sfrecato. Non daremo più nulla. Non hai niente che ha sfettato? Ci sono rispettato. And all of us give you muscles. We are the dairy. We're milk from Wisconsin. Cheese from France. Try yogurt from Greece. We'll make you wanna dance. How about some protein? We are Frankfurters from Frankfurt. Sushi from Japan. And fish from England. Make us part of your daily plan. Mmm, bread. We are pita bread from Morocco. Spaghetti from Morocco. Lay the puzzle pieces out. Find out what it's all about. Together we can change the world. Can't do it by myself? So I'm asking for your help. Together we can change the world. Still past where it's been shut. And roll your sleeves up. Let's get started. Together we can change the world. Together we can change the world. Together we can change the world. With our hands and with our hearts we can change the world. Ma, ma io non ho ordinato questa roba. Together we can change the world. Together we can change the world. What if we spoke with one voice knowing that we have a chance to eat together we can change the world. È buona la pizza, eh? 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 È buono. Can't do it by myself. So I'm asking for your help. Together we can change the world. Grazie per la visione 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 Eccomi sono io il meccanico Chiedono se puoi riparargli la sua navicella Va bene Grazie per la visione Grazie a tutti Cerchiamo un piatto tipico terrestre Ma non esiste un piatto tipico terrestre È vero ci sono tantissimi piatti terrestri Aspettate ci sono anch'io fame Grazie per la visione Il rapporto della FAO del 2014 Afferma che in 63 paesi il problema della denutrizione è stato sconfitto e probabilmente nel 2015 altri 7 paesi raggiungeranno questo obiettivo Però il problema della fame del mondo ancora esiste ben l'11% della popolazione mondiale soffre di questo problema e ci sono milioni di bambini che non hanno nulla da mangiare Ehi voi cosa mangiate? Big burger, cheeseburger, cibo superproteico Beh, è comodissimo mangiare al fast food perché come noi lavoro in ufficio è solo una mezz'ora per mangiare Anche voi mangiate il cibo sostanzioso? Sì, cioccolato, creme, pasticcini e torte di ogni genere Però siamo un po' in sovrappeso E beh, si vede Cos'avete da mangiare voi di buono? Solo un po' di riso, ma non tutti i giorni Siamo poveri e a casa non c'è nulla da mangiare Anche voi avete soffro da mangiare No, anzi, noi vogliamo mangiare poco Soltanto un po' di yogurt Perché noi vogliamo entrare nel mondo della moda Quindi yogurt Anche voi avete poco da mangiare Ma voilà, noi siamo sempre sazi Con la pancia piena Mangiamo solo polenta Forse però ci mancano le vitamine, le proteine e i grassi Così ci ammoliremo Vuoi un pezzo di focazza che mi aveva preparato stamattina mio papà? Vuoi anche una mela che ho raccolto stamattina dall'orto di mia nonna? Sì, grazie Grazie anche tua nonna Vado ogni giorno i tuoi piatti Ma stai, mi sano e cibo per tutti Vado ogni giorno i tuoi piatti